Scommettere sulle potenzialità e le peculiarità del territorio per ripartire tutti insieme verso una rinascita e questo è il senso del progetto Cuore d'Abruzzo sul Mona Città del Territorio presentato questa mattina in conferenza stampa che vede il centro Abruzzo presentarsi unito e compatto in via Fiorichiare nel padiglione di Casa Abruzzo all'Expo di Milano con sul Mona Città Capofila. Dal 29 settembre al 1 ottobre saranno tre giorni all'insegna di arte e cultura, ambiente e enogastronomia. Sfruttando il prestigio di una vetrina internazionale, il centro Abruzzo è pronto a sfoderare le sue armi vincenti. Il principio ancora una volta è quello della coesione perché l'unione fa la forza. Dobbiamo ripartire con ciò che abbiamo e con questo modo di lavorare sono convinta che il nostro territorio ce la può fare ad uscire da questo momento difficile ha detto la vice sindaco di Sul Mona Luisa Taglieri, promotrice del progetto insieme a Rosa Gianmarco, direttrice del centro regionale dei beni culturali. I dati ormai concreti dell'estate sul Monese, dell'estate del territorio parla da sola e quindi abbiamo cercato di puntare molto ancora su Milano, quindi su questa vetrina internazionale per poter presentare il nostro territorio in vista di quel turismo che noi riteniamo possa veramente rilanciare questo territorio. Il nostro è una zona appunto dell'Abruzzo che può oggi veramente ripartire, può uscire dalla crisi tutti insieme ma puntando su quelle che sono le nostre caratteristiche fondamentali e sicuramente lo sono l'arte, la cultura, l'enogastronomia e l'ambiente. La regione è un programma che è stato calibrato proprio sui tempi e sulla dimensione dello stand. Le giornate sono tre, la prima è dedicata agli eventi culturali, la seconda è dedicata all'ambiente ma per ambiente intendiamo lo spazio per le riserve naturali che stanno sul nostro territorio e il terzo giorno è legato invece all'enogastronomia. Quindi tre giornate intense dove abbiamo dovuto un po' raccogliere quelle che sono le potenzialità e le risorse dell'intero territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli e dai rappresentanti amministrativi di Prato Lapelini, Rocca Casale, Castel di Sangro, Amversa degli Abruzzi, Cocullo, Campo di Giove, Pettorano e Introdacqua. Credo fermamente in questo progetto che deve avere una continuità anche dopo l'Expo con un grande incontro che chiami e raccolta tutti l'assessore alla cultura del territorio e con l'avanzamento del progetto Redurre per ottenere un accesso unico per quanto riguarda il turismo territoriale, ha detto Ranalli. A Milano la delegazione sarà composta da Luisa Taglieri, vice sindaco di Sulmona, Rosa Gianmarco e i rappresentanti dei comuni di Castel di Sangro, Pacentro, Prato Lapelini e Cocullo e rappresentanza del centro Abruzzo. La prima giornata del 29 settembre è dedicata all'arte e alla cultura con la presentazione del progetto Cuore d'Abruzzo, la presentazione di riconoscimento del rito dei serpari, patrimonio dell'umanità, il concerto di Francesco Mammola, la presentazione di Ovidio 2017 e l'esibizione di musici, sbandieratori, chiarini e tamburini della giostra cavaleresca di Sulmona. Il secondo giorno sarà dedicato all'ambiente con l'illustrazione del patrimonio ambientale e le progettualità delle quattro riserve naturali, grande chiusura e primo ottobre con i percorsi sensoriali e la degustazione di prodotti tipici. In totale il costo del viaggio per il comune di Sulmona è di 8.500 euro. Il sostegno economico per la buona riuscita dell'iniziativa è arrivato anche dalla Fondazione Carispa e dalla BCC di Prato Lapelignia.